Allora, abbiamo creato il nostro primo personaggio, ma siamo soltanto all'inizio, abbiamo dato il nome, visto quale classe scegliere, compilato soltanto qualcosina nella scheda. Adesso andremo a scegliere invece la nostra specie, le nostre origini e poi man mano compiliamo tutta questa scheda. Un piccolo avviso che non ho fatto nel video precedente, non c'è un metodo migliore per creare il proprio personaggio, potete cominciare dalle caratteristiche, cominciare dalle origini, cominciare dalla classe, cominciare da un concept e poi scegliere dove mettere le mani per cominciare. Quindi, questo è un metodo che stiamo seguendo, prendiamo un po' le indicazioni del manuale, ma poi facciamo anche a modo nostro. Una volta che avete capito come funziona, poi potete scegliere e iniziare da dove volete e non c'è un metodo migliore dell'altro, ci tengo a dirlo. Detto questa cosa, adesso andiamo subito sulla nostra scheda e sul nostro manuale, ma non prima che vi siete iscritti al canale, messo mi piace al video, commentato e date un'occhiata al nostro solito sponsor, il nostro store di fiducia, secret loot, moduli, dadi, manuali, tutto ciò che è attinente al gioco di ruolo, codice sconto, wiki roll per avere il 10% di sconto per l'appunto. Tutti i link sono in descrizione e adesso andiamo di nuovo sulla nostra scheda. Eccola qua, come vedete abbiamo cominciato a compilare qualcosa, abbiamo il nostro bonus di competenza, abbiamo il nostro nome, la nostra classe, il nostro livello, i nostri punti esperienza. Abbiamo messo già qual è il dado vita che ce lo dà la classe, quando arriveremo a compilare i punti ferita vi spiegherò di preciso che cosa sono. Abbiamo anche messo le competenze che ci danno, che ci dà la classe, quindi la classe ci dice due a scelta tra queste qua, quali tiri salvezza e su quali tiri salvezza noi siamo competenti. Inoltre un'altra cosa che ci ha dato sono le competenze nelle armi e nelle armature, quindi noi siamo addestrati in tutti i tipi di armature, compresi gli scudi e in tutte le armi. Possiamo usare tutte le armi, significa che quando useremo un'arma potremo aggiungere il bonus di competenza ai nostri attacchi, ma di questo ne parleremo quando parleremo di come funziona un attacco. Quindi nella fase di combattimento e infine ci ha dato anche un po' di equipaggiamento, che questo adesso lo riprenderemo man mano che dobbiamo compilare al meglio la nostra scheda. Quindi fin qua ci siamo, andiamo avanti, andiamo nel manuale, qui noi abbiamo la nostra classe e quindi che cosa ci dà la classe? Abbiamo la tabella della classe che ci aiuterà, poi vedremo man mano come salire anche di livello, quindi faremo tutto ciò che è necessario. Dunque, per cominciare abbiamo visto tutto ciò che ci dà la nostra classe. Che cosa serve adesso? Ci serve vedere quelle che sono le nostre origini, quindi noi adesso torniamo indietro nel nostro manuale e una volta scelta la classe ci consiglia di dare un'occhiata alle nostre origini. Ho già fatto un video sulle origini dove spiegavo a grandi linee come funzionavano, eccetera, eccetera. Ma che cosa sono? Tanto per cominciare ci consiglia di iniziare da un background, quindi chi eravamo in passato? Il background, a differenza della backstory, già ci ho fatto il video, andatelo a rimediare, per l'appunto è una cosa un po' meccanica. Ci dice chi eri prima tu, cosa hai fatto? Sei stato addestrato nel combattimento? Hai vissuto in mezzo a una strada? Sei stato un nobile? Sei stato un criminale? Qualunque cosa tu possa essere stato nel tuo passato. E ogni origine ci dà delle cose ben specifiche, ok? Soprattutto ci dà dei punteggi di caratteristiche e un talento di origine. Adesso vedremo, adesso vedremo, adesso vedremo. Quindi, come facciamo per trovarlo? Torniamo, io torno di solito alla home del nostro manuale e mi cerco i background, quindi. Vado nei background e qui ho una bella lista di background. Io so già che il mio guerriero è stato un soldato, quindi. Scegliete quello che volete per il vostro personaggio. In questo caso, il mio personaggio è stato addestrato al combattimento, quindi come background ha avuto quello del soldato. Allora, abbiamo ability scores, quindi punteggi di caratteristiche. Come funziona? Poi faremo il... vedremo come compilarli tutti. Ma intanto ci sta dicendo, ability scores abbiamo forza, destrezza e costituzione. Che cosa significa? Significa che noi possiamo scegliere, che cosa? Due caratteristiche a cui dare un più due e un più uno, oppure scegliere tutte e tre queste caratteristiche e dare più uno, più uno e più uno di punteggio. Quindi, ogni volta che scegliete un background avrete a disposizione tre caratteristiche su sei. Ok? Potete scegliere di dare più uno, più uno e più uno, oppure più due e più uno in due di queste tre. Ok? Cosa vogliamo fare? Io vi dico la verità. Ho già scelto che il mio guerriero picchia in mischia, quindi la destrezza mi interessa tanto e non quanto. Scelgo di dare più due in forza e più uno in costituzione. Quindi, di queste tre, io mi scelgo forza e costituzione, a cui dare più due in forza e più uno in costituzione. Quindi, andiamo alla nostra scheda. Vi faccio vedere. Andiamo alla nostra scheda. Boom! Forza! Qui c'è modificatore e score punteggio. Il modificatore è l'ultima cosa, non vi preoccupate. Quindi, iniziamo dal punteggio. Io già ci metto un più due e poi vado in costituzione e ci metto un più uno. Quindi, sono dei reminder, perché non è il punteggio totale questo ancora. È soltanto quello che ci dà il nostro background per ora. Ok? Quindi, per adesso, questa parte del background l'abbiamo fatta. Torniamo al manuale. Abbiamo ancora il soldato. Cos'altro ci dà? Fit. Scusate. È qui. Fit. Eccolo. Savage Attacker. Quindi, abbiamo questo bellissimo talento. Adesso andiamo a vedere che cosa fa questo talento. Quindi, intanto me lo segno sulla scheda. Andiamo nella scheda. E cerchiamo dove mettere i fit. Eccoli qua i talenti. Fit. Io che cosa faccio? Ci clicco qua. Savage. Attacker. Dovrei averlo scritto giusto. Eccolo qui. Quindi, intanto io me lo segno qua. Ma cosa fa questo talento? Torniamo nel nostro manuale. Dunque, andiamo al fit. Savage Attacker. Guarda il capitolo 5. Io adoro questa cosa perché proprio ci dà tutte le descrizioni del... Ci ci porta direttamente nelle varie pagine utile. Ed eccolo qui. Savage Attacker. Dunque, è un talento di origine. Adesso vi spiego cos'è. Dunque, tu sei addestrato per causare particolari tipi di danno. Una volta per turno, quando colpisci un target, quindi un bersaglio, con un'arma, tu puoi ritirare, quindi rirollare il dado del danno, quindi puoi tirarlo due volte e usare il risultato più alto. Quindi, se io devo tirare un D8, invece che tirarne uno, ne tiro due. Prendo quello che è il risultato più alto. È una cosa davvero molto interessante. Quindi, che cosa faccio? Io questo me lo copio. Questa è una scelta mia, potrei anche non copiarlo perché me lo voglio ricordare, eccetera, eccetera. Vado nella scheda e qui, in Savage Attacker, io metto due punti. Vado a capo. Boom! Eccolo qua. Fatto. Quindi io adesso mi sono segnato questo talento nella mia scheda, così me lo voglio ricordare. Voglio fare altrimenti, di solito faccio anche, ad esempio, si scrive il nome del talento e poi metto pagina tot del manuale, così magari me lo vado a consultare di volta in volta. È una cosa che può essere utile per risparmiare spazio all'interno della scheda. Non abbiamo finito, poiché dobbiamo tornare a vedere cos'altro ci dà il nostro background. Quindi, torniamo nel manuale. Skill, proficiencies, atletica e intimidazione. Avete visto che sono gli stessi che io ho scelto di classe? E che succede allora? Ce l'abbiamo il doppio? No. Banalmente adesso ne cambiamo. Io, dato che queste due me li dà il background, io me ne prendo altre due di quelle che mi davano la classe. Quindi, andiamo nella nostra scheda. E che cosa faccio? Dato che quelli li ho già segnati con la competenza, mi prendo altre capacità che possono essere utili per me. Quindi io mi scelgo, ad esempio, cosa possiamo scegliere di bello? Mi scelgo insight, quindi competenza nell'intuito e poi percezione. Gli metto il puntino che mi ricorda di avere competenza e metto più due anche a percezione, che è una caratteristica piuttosto utile per potersi guardare attorno, ascoltare le cose, eccetera, eccetera. Poi, torniamo nel nostro manuale. Abbiamo Tool Proficiency Scegli un tipo di gaming set. Io posso, quindi ho la competenza in un tipo di gioco. In questo caso io mi scelgo, che so, giocare a dadi, ok? Quindi ci sono tanti tipi di gioco, senza notare che uno potrebbe anche inventarsi propri, eccetera, eccetera. Quindi vado nella mia scheda. Poi sono cose che potete mettere, cose che potete non mettere, potete fare quello che volete, no? Io che cosa faccio? Nella mia scheda vado in... potrei metterlo un po' dove mi pare, però... Tools. Gli metto dadi. Sono competente nel gioco dei dadi, ok? Una cosa mia. Continuiamo a guardare sul manuale che cos'altro ci dà il background. Scegli A o B. Una lancia, short bow, quindi un arco corto e 20 frecce, un gaming set, che è lo stesso, quindi potrei avere dei dadi miei, un kit da guaritore, eccetera, un abiti da viaggio, quello che è. Più 14 monete d'oro, oppure scelgo 50 monete d'oro. Ma sapete che mi scelgo le 50 monete d'oro? Quindi che cosa faccio? Vado nella mia scheda. Ecco qua. Qui abbiamo, come detto, un po' tutto quanto. Devo scegliere dov'è la parte delle mie monete d'oro, che sono cose che bisogna segnarsi, che non si sa mai. Mettete che dovete comprare qualcosa, mettete che dovete fare qualcos'altro. Vedete coins qui in basso? Eccole qua. Coins. Dunque, qui abbiamo le monete di rame, le monete d'argento, le monete d'elettro, le monete d'oro e le monete di platino. Di base funziona così. Moneta di rame è la più economica, la più scarsa, quella che ha il valore minore. 10 monete di rame? Boom. Fanno 10 monete d'argento. Se non sbaglio, 50 monete d'argento. 10 monete d'argento fanno una moneta d'oro. 10 monete d'oro fanno una moneta di platino. In questo caso io mi segno, se non sbaglio erano 4 quelle che mi dava con quella scelta della classica, sono 54 monete d'oro. Poi se sbaglio fatemelo sapere nei commenti. Boom. E fin qua ci siamo. Non ricordo l'elettro a quanto corrisponde, però è una delle monete meno usate in assoluto in tutto del Giustandrego, quindi in questo caso frega poco. Quindi, continuiamo. Andando nel manuale, abbiamo finito. Io potrò utilizzare queste monete anche prima di iniziare a giocare per spenderle nell'equipaggiamento, ma lo vedremo più avanti, oppure me le tengo per il gioco, perché non si sa mai. Durante il gioco voglio comprare cose fra i vari mercanti, eccetera, eccetera. Quindi questo è il nostro background ed è una di quelle parti meccaniche necessarie che fa parte delle origini per poter creare il nostro personaggio. Ora andiamo nella nostra scheda. Una volta che l'abbiamo scelto, vedete qui in alto che ci sta scritto background. Quindi, che cosa faccio? Nel background io scrivo, boom, soldato. Ho scritto soldi, ma lo voglio segnare come soldato. Fatto. Quindi ci manca soltanto adesso per penire le nostre origini, la nostra specie. E cioè, che siamo, umani, elfi, nani, eccetera, eccetera, quello che è? Va bene, lo decideremo, ma ne parleremo nel prossimo video. Faremo tutto pezzo per pezzo, ok? Vedremo come anche la specie ci dà delle capacità particolari. Finita quella parte, finalmente arriveremo a parlare delle caratteristiche. E da lì vedrete come tutto il resto si fa quasi da solo. Quindi vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un piaccio al video, a commentare, attivate la campanella così seguirete tutta questa serie. E il nostro sponsor Secret Loot, codice di sconto Wikirall per 10% di sconto su tutto, link in descrizione. Salute e frecce e ci vediamo in un prossimo video qui su Wikirall.